Speriamo la vicenda del debito di Roma. Cosa fa la sindaca di Roma, Virginia Raggi, con in mano due pezzetti di pane? Spiega il debito di Roma al ministro Salvini, dopo le critiche del titolare del Viminale sulla capitale, definita mai così sporca e trascurata. Raggi dice di non voler far sborsare un euro in più allo Stato e alle altre amministrazioni per il vecchio debito di Roma, anzi, di voler fare spalmiare agli italiani e romani 2,5 miliardi di euro, tagliando i folli tassi di interesse delle banche su quei 13 miliardi di debito che hanno fatto le precedenti amministrazioni di Roma. E in merito alla sporcizia della città, di cui si è lamentato il vicepremier leghista durante la sua visita all'IPRIX di Formula E nel fine settimana, dove era presente anche Raggi, anche se non si sono incontrati, la prima cittadina risponde. Per togliere la spazzatura non serve assolutamente uno scienziato, ma sono necessari duro lavoro e costanza. Di certo non bastano due tweet e qualche battuta ad effetto.